a me maria a tutti ragazzi e ragazze carissimi e ben ritrovati sulle frequenze di radio buon consiglio da don leonardo maria pompeio una puntata di spazio giovane sapete tutti quanti che ci stiamo dedicando in questo scorcio di tempo all'analisi dei dieci comandamenti in particolare siamo giunti nella nostra nella nostra disamina diciamo così e congiunta al sesto comandamento e la volta scorsa ci siamo fermati una quindicina di giorni fa e introducendo la tematica del fidanzamento quindi abbiamo affrontato la problematica delle unioni civili e delle libere convivenze abbiamo visto quanto oggi questo fenomeno è tristemente diffuso anche alla luce di alcune statistiche e e ora dobbiamo occuparci di quello che succede prima del matrimonio sempre rimanendo nell'ambito diciamo della prima categoria diciamo di peccati contro il sesto comandamento che sono quelli che offendono direttamente la purezza in quanto colpiscono la santità e del sacramento del matrimonio una delle forme per profanare da da prima diciamo così la santità di questo sacramento è cominciare a vivere come marito e moglie senza esserlo e da prima del tempo anche senza che questo comporti in instaurazione di quella che si chiama in linguaggio comune una convivenza more allora abbiamo accennato la volta scorsa entriamo subito nel merito che il fidanzamento è un tempo di discernimento discernere e diciamo così due punti fondamentali di ciò che caratterizza il progetto diciamo così di vita cristiano noi dobbiamo sapere ragazzi che noi non stiamo sul pianeta terra così a caso e o per chissà quale strana coincidenza oppure che siamo venuti sul pianeta terra a farci una passeggiata o a cambiare aria la nostra vita è stata da dio pensata in un certo modo noi siamo stati creati da lui siamo stati dotati di una serie di requisiti e chiamiamoli così di attributi interiori possono essere intellettuali possono essere di volontà di temperamento di di carattere o anche di grazia perché il signore vorrebbe uso volontariamente il condizionale destinarci a determinati compiti cioè la nostra vita è tutta scritta attenzione a comprendere bene questo spunto questo punto è sul libro di dio tutta scritta per come dovrebbe essere e per come lui vorrebbe che fosse per quanto dipende da lui ora noi sappiamo bene però che il destino non esiste e che noi non siamo delle macchine programmate quindi o predeterminate quindi è tutto da dimostrare che noi realmente faremo ciò che dio ha pensato ciò per cui dio ci ha creato e ciò che dio avrebbe voluto perché la nostra libertà che è ciò che ci rende simili al nostro signore non è qualcosa di fittizio è qualcosa di assolutamente reale dicono i dottori della chiesa che dio può muovere la nostra libertà nel senso che può volgerla verso ciò che lui desidera ma nel senso che la può in un certo senso costringere a sforzarsi di confrontarsi e di pensare a quello che lui vorrebbe non nel senso e questo dio non lo fa mai che la costringa a fare qualcosa che lei non abbia liberamente voluto e scelto accordo attenzione perché dalla fare la volontà di dio e il matrimonio è una vocazione divina non è una cosa che si fa così tanto perché lo fanno tutti no perché non tutti siano la chiamata al matrimonio e non tutti quelli che non hanno la chiamata al matrimonio devono diventare preti frati e suore questo dobbiamo sempre ricordarlo abbiamo fatto altri incontri credo altri altri cicli di catechese sempre su questa radio spero dove si è parlato di queste tematiche per esempio io ho avuto modo di conoscere tra le tante tra le tante realtà ecclesiali della mia vita non so chi di voi la conosce la realtà dell'opus dei per esempio nell'opus dei ci sono alcune persone di sesso maschile di sesso femminile uomini e donne che entrano a far parte diciamo così di una categoria particolare di membri di quest'opera che si chiamano numerari i numerari sapete chi sono sono laici uomini e donne che hanno compreso che la loro vocazione di non sposarsi e di fare quindi un voto di castità ma non per diventare preti frati o suori o missionari ma per svolgere in maniera santa anzitutto il proprio lavoro professionale pensate per esempio un san giuseppe moscati santo canonizzato medico santo se san giuseppe moscati avesse avuto la moglie e figli non avrebbe potuto fare quello che ha fatto sotto nessun punto di vista né dal punto di vista del tempo del tempo davvero ingente che dedicava ai malati più poveri andandoli anche a visitare personalmente né dal punto di vista delle risorse che ci investiva perché lui dava i soldi a tutti e sappiamo benissimo che pur essendo un medico e anche un grande luminare del tempo è morto povero non c'era più neanche una lira per sé per quanto era generoso se avesse avuto la famiglia sarebbe sicuramente stato un medico santo e sicuramente un santo marito e un santo padre ma non avrebbe potuto fare esattamente quello che ha fatto i numerari e le numerarie prendono molto sul serio il fatto che dio ha bisogno di alcune persone che facciano il proprio lavoro professionale in maniera eroica e se hanno del tempo ulteriore a loro disposizione che si impegnino attivamente nell'apostolato in particolare nella formazione perché poi numerari svolgono delle attività catechetiche formative nei confronti degli altri membri dell'opus dei cosa che come sapete anche un laico ben formato può fare e perché sia sempre ben formato e per quanto ne so all'interno di questa realtà curano bene la formazione e e basta e sono delle vite esemplari delle vite santissime non sono né sposati non sono preti non sono frati non sono monaci non sono monache non sono niente sono questo e non è questa una vocazione di serie b o un ripiego quindi capite quando non è che se uno non si sposa è perché un fallito perché è uno scapolone o una zitellona o cose di questo genere non si è scritto da nessuna parte questo cioè tu non ti devi sposare se non c'è questa vocazione perché il matrimonio è una cosa seria è una cosa seria impegnativa io ho una caterva di miei amici qui da queste parti non è che io vengo dal da 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 marte che sono un essere disincarnato quasi tutti separati quasi tutti si contano sulla punta delle delle dita tra i miei amici e i miei amici di un tempo di quando insomma ero molto molto giovane i compagni del del liceo dei tempi in cui frequentavo l'università che c'hanno ancora una famiglia che sta ancora in piedi qual è il problema allora quando una famiglia va in malora sono due le cose o era è come quando un sacerdozio va in malora qual è il problema o era meglio che non te sposai perché non c'era vocazione così come era meglio che prete ci facevi proprio oppure non ti sei preparato bene e non hai retto alle inevitabili difficoltà che sia nel matrimonio che nella vita da prete ti vengono e a cui devi preparare oppure hai fatto questo gesto in maniera sciocca stupida cioè facendoti sogni e miti cioè io mi sogno il principe azzurro la principessa rosa quindi proiettano il matrimonio e idee di felicità o di cose di questo genere che non esisteranno mai d'accordo perché la persona ideale non esiste non esiste non è che non esiste la persona con cui tu potrai essere felice che amerei per tutta la vita ma non è la persona ideale cioè quella senza difetti quella che ti dice sempre di sì quella che ti serve ti riferisce qualunque cosa succeda che e che va sempre bene tutto non esistono cose di questo genere perché ogni individualità umana è una è una individua scusato un'individualità specifica personale diversa da te quindi per quanto uno possa essersi ben preparato e quasi nessuno oggi si prepara bene perché oggi cominciano tutti a fare le cose prima del tempo di marito e moglie e quasi nessuno fa quello che durante il finanziamento dovrebbe essere fatto e che è la cosa più importante lo vedremo subito ci ho fatto una catechesi ieri sera su una radio concorrente scusate lo scherzo su radio san giuseppe e sul matrimonio sul matrimonio di san giuseppe e di maria un matrimonio unico che però ha da insegnare a tutti i matrimoni che si fanno oggi perché non aveva la dimensione corporea come tutti sapete ma aveva quello che quasi tutti i matrimoni ahimè non hanno e che la cosa più importante quindi un matrimonio può reggere anche senza la dimensione corporea come dimostrano alcune rarissime coppie ma che l'hanno fatto che sono vissute in castità come giuseppe e maria ma sicuramente non regge se non ha quest'altra cosa di cui adesso vi parlerò il cui tempo in cui scusate nel giro di di parole quest'altra cosa il tempo in cui viene cominciata ad essere edificata a porre le fondamente ad essere costruita è il tempo del fidanzamento il tempo del fidanzamento qual è questa cosa questa cosa è il donare la tua vita ad un altro a prescindere dalle sue risposte ad un altro che è persone che tu vuoi il bene di quella persona sempre comunque dovunque incondizionamente incondizionatamente persona che ha avuto modo di conoscere bene di apprezzare di stimare di saper comprendere persona che è divenuta la tua migliore amica io dicevo ieri sera a o ma voi conoscete una coppia di sposi per provate che ti venga a dire tu gli chiedi qual è il tuo miglior amico dovrebbe rispondere mia moglie qual è il tuo miglior amico mio marito il migliore amico perché l'amore di amicizia è non solo che è incluso è precedente all'amore sponsale anzi l'amore sponsale non esiste senza l'amore di famiglia senza l'amore di amicizia scusatemi capite allora durante il fidanzamento che cosa si fa due cose ho detto la volta scorsa che il fidanzamento è un po come il seminario per un prete numero uno allora a contatto diretto con una creatura quindi dal di dentro quindi vi ho già detto che prima di fidanzarsi la volta precedente tu non si deve non devono cominciare storielle precoce a 12 anni a 13 anni quando uno va e va presso alle proprie follie alla cosiddetta cotta che combina soltanto guai col pericolo che si iniziano a fare delle stupidaggini prima del tempo 10 potrei già scrivere un libro su quanto e non sentire di storia di questo genere inutilmente quindi prima di intraprendere un fidanzamento già uno deve aver fatto una sorta di pre screening d'accordo di di cioè di discernimento personale cioè a quanto posso comprendere a quanto sento nel cuore a quanto mi sembra di capire la mia vita che direzione deve prendere cioè quella di perché l'amore c'è fondamentalmente due direzioni polarizzarlo esclusivamente verso dio oppure indirizzarlo in maniera chiaramente divina verso una creatura particolare per instaurare con lei una mutua comunione e perché attraverso l'amore tra me e questa creatura possiamo cooperare all'opera divina della creazione degli uomini questo è il matrimonio non altro non altro allora questo è uno screening che va fatto ante litteram quindi supponiamo che io dico mi sento inclinato verso il matrimonio comincio a guardarmi intorno trovo qualcuno che mi interessa ci simpatizziamo a vicenda e cominciamo a frequentarci d'accordo senza impegno da prima e poi piano piano non vede durante questo tempo che poi diciamo c'è una formalizzazione anche impegnativa se vogliamo e solenne anche se oggi le forme esteriori sono ormai cadute in disuso e con il fidanzamento cosiddetto ufficiale durante questo tempo cosa cosa devo fare uno faccio una ulteriore verifica dal di dentro cioè io vedo come mi trovo a vivere un rapporto di coppia a cominciare a pensarmi non più al singolare ma al plurale quindi con una persona che mi sta vicino e con cui poco potrò condividere tutto tutta la vita la casa il tempo libero il letto la tavola non cioè quando uno è marito e moglie due è una carne sola quindi bisogna vedere se c'ho questa capacità se nessun su se sul piano pratico io sono capace di vincere almeno in maniera essenziale alcune forme egoistiche che tutti ci portiamo dietro e di aver capito una grande cosa dicevo ai ragazzi la settimana scorsa dico guardate ragazzi oggi vi devo dire una grandissima cosa è grande vi faccio una grande rivelazione dovete sapere che al mondo non esisti solo tu e mi guardavano con due occhi così dico guardate questo non è così scontato perché la stragrande maggioranza della gente anche tra gli adulti campa pensando che esiste solo lui perché degli altri non mi infischia assolutamente nulla e si vede in tanti piccoli comportamenti da arrivare tardi a un appuntamento che è espressione di questo modo di pensare perché se io rispetto l'altra persona so che mi sta aspettando non arrivo mezz'ora dopo arrivo puntuale perché rispetto la persona perché non esisto solo io tutti ci abbiamo delle difficoltà ci abbiamo dei problemi ci abbiamo degli imprevisti mi organizzo per non far aspettare l'altro se gli voglio bene e se ho rispetto dell'altro in quanto altro a cose molto molto più gravi l'appuntamento era 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 insomma una una sciocchezza no quindi per vivere una vita familiare tu devi essere capace di uscire almeno in maniera sufficiente dal tuo io non puoi tu e né puoi pretendere che chi ti sta a fianco ti faccia da servetto o da servetta perché è esattamente il contrario la vocazione al matrimonio cioè io mi dono a te per essere tuo servo non per farti mio servo a tua volta tutti i doni a me per essere mio servo ma questo non lo posso pretendere sei tu che liberamente devi farlo questo è l'incontro matrimoniale serio e di vocazione allora discernere se io ho questa vocazione dal di dentro e secondo discernere se la persona che sto frequentando e con cui ho intessuto una storia adesso vedremo in che modo in che senso in che forme è lei perché i matrimoni sono scritti in cielo quelli che noi cerchiamo di discernere di riconoscere tutti i matrimoni che vengono celebrati sono scritti in cielo no questo ve lo assicuro perché lo ha detto la madonna fatima per bocca della piccola giacinta che di che disse parlando della madonna molti i matrimoni non piacciono a dio non sono benedetti da dio vuol dire che non sono scritti in cielo punto ma se tu c'è la vocazione al matrimonio stai tranquillo che il nome del di tuo marito di tua moglie sta scritto in cielo e se tu fai quello che ti dico io oggi non certamente perché te lo dico io perché io sono come 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 ho detto tante miliardi di volte sono semplicemente una tromba sfiatata che fa suonata da altri d'accordo se preferite un pappagallo o se preferite una cassa di risonanza io non mi permetterei mai di dire cose mie quando parlo come prete e come ministro di dio semplicemente riferisco cose di altri i padri della chiesa usavano l'espressione di un nano che cammina sulle spalle dei giganti quindi ricordate sempre che se qualcosa di buono vi sembra di poter percepire dalle mie parole non dovete mai dire grazie a don leonardo mai a dio ea chi per lui io chiaramente non ogni tanto faccio qualche citazione parlando ma dovrei stare a fare una citazione uno ogni cinque minuti e verrà risparmio però ci tengo a dire non pensiate che chi parla sia qualcosa o qualcuno perché non è vero non lo è allora detto questo allora cos'è poi il matrimonio abbiamo già visto il matrimonio è la donazione di sé a un altro quindi la dimensione prioritaria del matrimonio è spirituale spirituale non vuol dire disincarnata o o vagamente spiritualista o spiritualisteggiante che non si capisce bene che cos'è è un fatto profondo interiore che coinvolge tutta la nostra persona i nostri affetti la nostra volontà quindi cioè presuppone una stima ripeto della persona il fatto che la persona mi piace il fatto che riesco a dialogarci il fatto che riesco a condividere con lei un progetto insieme cosa facciamo cioè che famiglia facciamo noi d'accordo guardate che oggi molto c'è a sposare quanti figli facciamo ma lo vuoi non volete parlare durante il fidanzamento tu sai che se vuoi fare la volontà di dio una volta che ti sei sposato dato che hai fatto tanti sacrifici prima fai quello che devono fare marito e moglie non sta a pensare niente d'accordo a quanti figli che vengono perché te ne vengono tanti quanti te ne manda il padre eterno due domeniche fa ho fatto l'omelia che mi è arrivato su facebook un post da basta bugie con una coppia attualmente vivente che aveva stava incinta del sedicesimo figlio sono contentissimi sono e conosco una caterva di gente aperta aperti alla vita senza limiti quindi senza nessun tipo di limite neanche i metodi naturali che sono leciti ma non sono il top anche se sono leciti d'accordo e che hanno due figli o uno o zero addirittura in alcuni casi questa è una cosa è un fatto importante cioè io non posso andarmi a sposare per esempio se questo punto non lo condivido con chi mi sta a fianco no perché dopo sorgono una caterva di di conflitti che tipo di stile vorrò dare alla mia famiglia ma dalle grandi alle piccole cose che casa ci compriamo sarà così importante per non andare a fare le vacanze di chissà che chissà che cosa di comprarci il macchinone adesso non lo so le prime cose che mi vengono in mente andrò al manicomio se la sera ci sta la partita e mia moglie ci ha bisogno di parlare non sono buona a chiudere la televisione vedere la partita guardate che la vita è fatta di queste cose queste non si improvvisano perché se durante il fidanzamento per esempio la sera gioca il napoli oppure la juve o il milano la roma o l'inter le dico tutte così nessuno si offende tra gli ascoltatori e tu sei del milan della roma e attarriano la telefonata quando c'è la finale di coppa dei campioni la champions league ragazzi il napoli sta in finale di champions league il milan e ti chiama la fidanzata ti dice guarda leonardo e io ho bisogno di testa sera mi sento giù cioè i miei genitori che che hanno litigato mio padre si è andato di casa c'ho bisogno della della tua presenza puoi venire sei capace tu a dire di no alla champions league la finale di coppa e devi dire di no se ami quella persona così come quella persona le donne hanno altre fissazioni di vario genere tipo le telenovelas o le so soppopera e se ci sta beautiful e io ho bisogno di parlarti tu spegni beautiful e vieni a parlare con me cioè le verifiche vanno fatto la vita concreta è fatta di tante piccole cose quindi e questa è una cosa che tu devi verificare su cui devi provare sanno come fai a reggere poi sarò capace di essere sempre fedele cioè che se mi viene vicino anche qualcun altro meno io non te proprio calcolo non ti proprio conosco non ti non non te voglio manco vedere e questo dobbiamo cominciare a dimostrare durante il tempo del fidanzamento come rispettandoci l'uno all'altro perché adesso lo vedremo rinunciare alla pratica sessuale vuol dire garantire la fedeltà futura all'altra persona perché cosa vuol dire come io oggi dicono a te non perché non ti amo ma perché ancora non ti appartengo e io non mi prendo la libertà di rubare perché questo è al mio futuro sposo sposa quello che è suo non è tuo è suo io domani non sarò mai fedele a mio marito e mia moglie o non avrò nessuna garanzia se non sono stato capace di dare a te mio fidanzato ciò che è solo tuo e che passa attraverso tanti no che ho detto prima ad altri e anche a te fino a quando non siamo sposati se io non sono stato capace di fare questo chi mi assicura che dopo il matrimonio se arriva una bella signorina simpatica e caruccia magari in un momento in cui sto un po in crisi con te perché tu hai cominciato a affliggermi e a darmi fastidio e a farmi esaurire e arriva subito vicino alla principessa rosa più bella più disponibile più arrampante più giovane eccetera eccetera come farò io a dire di no ad avere la forza per dire di no se non sono stato capace prima di fare dei dei sacrifici su questo punto specifico come farò queste non sono cose che si improvvisano sono cose che si costruiscono durante il fidanzamento e si costruiscono ad alti livelli quindi l'amore spirituale che è il cuore del matrimonio vi parlavo di voce nato prima san giuseppe la madonna san giuseppe la madonna hanno vissuto un matrimonio verissimo altro che a metà e neanche di rifacciato fittizio hanno fatto finta perché così gesù veniva al mondo in una famiglia apparentemente normale ma quindi hanno fatto finta ma finta di cosa la madonna amava la follia giuseppe ma non come ha scritto qualche sciocco autore per ragioni di carità non faccio nome sono anche nomi eccellenti da fare che si era innamorata di giuseppe così come si innamorerebbe una ragazzina con pensieri così trullallero trullalla no amava san giuseppe di questo amore di cui vi sto parlando una stima immenso una capacità di condivisione il senso di sicurezza che la madonna ha sempre cercato e avuto da san giuseppe le sue cure di sposa devota sicuramente gli preparava delle cose buonissime a san giuseppe sicuramente cercava di sorridere l'incontinuazione di di consolarlo nei momenti tristi di sollevarlo quando il lavoro magari di fare nemmeno non andava bene tutte le cose che farebbe una moglie devota e innamorata santamente eppure non si sono mai toccati mai sfiorati d'accordo né prima né dopo il matrimonio ora maria e giuseppe sono esempi di tutti i fidanzati e di tutti i matrimoni di tutti i tempi allora di tutti i fidanzati nel senso che il fidanzamento va vissuto esattamente così come l'hanno vissuto giuseppe e maria né più nemmeno io questa cosa qui dopo dopo ve la dimostrerò perché queste non sono idee di don leonardo è qui ci sono delle pronunce di sommi pontefici sommi pontefici di santa romana chiesa c'è un papa ve lo dico subito questa è la cosa che fa vespai e varie forme di 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 mi sento male alessandro settimo papa disse con una definizione dogmatica che l'opinione di alcuni teologi lassisti che dicevano che durante il fidanzamento darsi un bacio non un bacetto un bacio e capite come era peccato veniale secondo loro perché dice sì è un principio di un atto sessuale ma non è tanto grave quindi un peccato veniale il papa ha detto no no è un peccato grave se dato durante il fidanzamento perché essendo comunque il principio di un atto sessuale ed essendo un atto a forte contenuto comunque anche erotico anche se c'è anche lì la dimensione affettiva non puoi in essere con una persona che ancora non ti appartiene non ti appartiene una persona che non è che non che non ancora sposata non si è donata a te in maniera piena e indissolubile e irrevocabile e quindi quella è una porta che non puoi aprire deve rimanere chiusa capite durante il fidanzamento cosa si può fare una volta disse un prete da zero a dieci zero l'unico spazio diciamo così franco lecito è quello di una manifestazione che è fondamentale anche questa cura nel tempo del fidanzamento graduale di affetto reciproco sono le 17 ragazzi facciamo un attimo una piccola pausa per l'ave maria ave maria piena di grazie il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amen qual è lo spazio del fidanzamento gli stavo dicendo atti di tipo affettivo e come sempre dal momento che dopo io lo so che i ragazzi vengono a chiederti a don leona si può sapere io che posso fare durante il fidanzamento che devo fare i disegni ma te li faccio d'accordo dei gesti guardate che tutto quello che si fa bene nel fidanzamento te lo ritrovi nel matrimonio perché anche la dimensione sessuale che poi c'è nel matrimonio non deve essere vissuta perdonatemi il linguaggio un po come se fossimo due animali e cioè la sessualità si chiama sessualità umana d'accordo quindi un conto è vivere anche la dimensione sessuale dentro una dimensione affettuosa di amore comunicato di dolcezza di delicatezza bella un conto è compiere gli stessi atti nella maniera con cui compiono i nostri membri della stessa specie che sono mammiferi ma che non hanno l'anima e non hanno un'affettività come quella umana guardate che è molto diverso allora se tu durante il fidanzamento hai fatto le cose prima del tempo hai perso anche una chance oltre che peccare molto a mente cioè di esercitarti nell'atto e negli atti di comunicare affetto e di far percepire l'affetto cosa a cui per esempio le donne sono particolarmente sensibili più degli uomini ma anche gli uomini a volte lo vogliono perché darsi semplicemente una carezza sulla guancia darsi uno sguardo pieno di amore e darsi una carezza sul capo e girare mano nella mano passeggiare mano nella mano oppure passeggiare appoggiandosi un braccio su una spalla oppure di un fidanzamento serio si darsi un abbraccio col cuore cominciarsi a dare qualche casto bacetto sempre avanti nel tempo sono cose belle che sarebbe anche bello ragazzi secondo il mio modestissimo per recuperare un pochino e perché oggi pare che non si capisce nient'altro che fare chissà chio chissà che cosa che chi le nuove trasgressioni nuovi culti le nuove cose non si sa più cosa si deve inventare ma non sono queste le cose belle della vita noi abbiamo bisogno di sentirci amati non di sentirci goduti perdonatemi se parlo in questo termine però cioè non se ne può più secondo me da dopo la rivoluzione sessuale abbiamo veramente toccato fondi su fondi su fondi su fondi allora siete fidanzati esprimete castamente e reciprocamente il vostro affetto scambiatevi tenere e pulite e fusioni mortificate è un no in vista di un sì ma voi pensate alla prima notte di nozze di una coppia di fidanzati che ha fatto questo è un incanto di cielo cioè e tu lo vivrai soltanto se hai fatto questi sacrifici che ti sto dicendo adesso perché se non li hai fatto questo incanto di cielo non c'è ragazzi se una ragazza ha perso la verginità può fare tutte le confessioni che vuole d'accordo e se si pente di ora perdona ma la verginità non torna c'è una testimonianza vi prego di andarla ad ascoltare l'ho anche postata sul mio profilo facebook sta sul mio canale youtube sul mio canale youtube d'oleonardo maria pompea c'è una playlist che si chiama purezza e castità dove ci sono ci metterò anche queste catechesi sicuramente sul sesto comandamento di radio buon consiglio c'è una testimonianza di una coppia di ragazzi americani si chiamano jason e cristallina due ce ne sono di testimonianze per cui non l'ha fatta anche jason cristallina poi si sono sposati hanno fatto una campagna stupenda negli stati uniti ma cristallina aveva fatto vita disordinata da giovane e lo dice pubblicamente durante una testimonianza e dice a un certo punto jason è arrivato al matrimonio vergine io no per cui io purtroppo nonostante che lui sappia il mio passato e mi abbia perdonato non potrò guardarlo negli occhi così come lui guarda me perché io non potrò dirgli sono solo tua nessuno mi conosce all'inforite perché non è vero e questo non si può cancellare io pensate la prima notte di nozze di una coppia di fidanzati che possono dirsi nessuno conosce il mio corpo se non te nessuno nessuno conosce i miei baci se non te perdonatemi se nessuno le mie labbra non hanno sfiorato mai nessuno che non sia tu ma immaginate che bello non è bello o è bello arrivare lì a alla prima notte di nozze che non si sa quasi che che è perso il conto che ci vuole pallottoliere per andare a contare quanti 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 strofinamenti e quante storie sono state in passato provate a pensare ragazzi non non lasciamoci travolgere dentro sto mare di fango e dentro un parlare comune d'accordo e dentro tutti fanno così ma ti pare che vado appresso queste cose che stiamo nel medioevo ancora a fasti discorsi non ci state a queste cose qui non ci state e parlo alle ragazze state attenti una cosa che dice sempre cristalina i ragazzi non sono cretini se voi date come messaggio anche per come vi conciate per come vi vestite che io sono un bel corpo da godere quello cercheranno i ragazzi e i ragazzi per avervi faranno così vi daranno amore cioè affetto illudendovi per avere il vostro corpo per godervi e una volta che vi hanno goduto vi butteranno via con un fazzoletto di carta ve lo dico io ve lo dico d'accordo le donne cosa fanno le donne di oggi le donne hanno bisogno di sentirsi amate quindi cosa fanno vendono vendono tra virgolette offrono il corpo in base un briciolo di amore di affetto che desidererebbero trovare da un uomo dal quale non lo avranno proprio se a differenza di quello che pensano si concederanno completamente nel corpo perché un uomo dopo che ha goduto quello che voleva immediatamente comincia a disprezzare quella persona perché la considera come una poco di buona di buono e vi ho fatto questo discorso di sapienza molto umana ma vi prego di credermi d'accordo c'ho qualche annetto ragazzi e c'ho un po di esperienza vissuta ahimè a livello personale forse non vi ho mai detto e non lo sanno tutti gli ascoltatori prima di fare il prete sono stato fidanzato sette anni e pensavo di sposarmi vedete l'importanza del discernimento del fidanzamento io non pensavo di fare il prete non pensavo di avere la vocazione a fare il prete l'ho capito dopo quindi io so tante cose dal di dentro ci ho avuto tanti amici che ho conosciuto tante situazioni adesso non conosce un'altra caderva nel ministero pastorale d'accordo ok quindi durante il fidanzamento durante il fidanzamento cosa si può fare a sfondo sessuale niente a sfondo sessuale quindi a gesti adesso non possono di perlati non si possono fare disegni ma penso che più chiaro di così non si possa essere no quindi gesti a caratteri sessuale che sono idonei a stimolare quello che si chiama tecnicamente il piacere venereo sono da bandire non è il momento opportuno per compiere sì chi è che vuole intervenire sono un ascolto si alfonso eh padre l'ho ascoltata io l'ascolto sempre purtroppo per internet no perché faccio difficoltà sì e le volevo chiedere sì queste persone che hanno convissuto cioè che hanno provato quasi niente del vero matrimonio mi permetto di dire quasi niente ma cosa sta rendendo un esempio in casa su questo tipo di rapporto io ho combattuto tutto il loro la loro convivenza dicendo convertitevi a terzi smettete la vera dice pure il padre all'anno l'anno mandato si dà la chiesa hanno fatto due anni di di convivenza cioè molti dico la verità mia sorella era proprio mia sorella ho chiesto alle padre ma che possono recuperare dalla perché dicono che hanno fatto la scelta personale di padre ma è grave è terribilmente grave che cosa che possono recuperare da qui stanno nervosi sono venuti a casa da la fesata sembri nervosi meno male che quando pensavano al bambino stavano tra punti perché è incinta mia sorella e padre io non so come mettere la nuova e poi quello che mi è piaciuto quello che ha detto dei ragazzi che non diciamo non vivono né il matrimonio né niente però la cazzità per esempio io sono io ho avuto un rapporto sessuale però sono 15 e passa anni che sono so bene come so in preghiera con lo studio e so bene con loro dicono cerco di andare sempre in chiesa anche durante la settimana faccio bene no fate voi avete definito con un nome appropriato lo sento bene quello che ho fatto io io sono andato pure da registra le sue per vedere la vocazione e c'è anche quella sacerdotale però devo mettere a posto tante cose purtroppo ho 63 anni mi capite padre se ne possono avere pure 60 quindi non 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 c'è nessun problema ci stanno gli operai dell'ultima ora quindi non c'è non c'è nessun problema d'accordo le le rispondo per radio le rispondo meglio ok ave maria allora quando ci sono delle situazioni di errore grave ecco come quelle descritte dal nostro fratello alfonso cioè due persone che hanno vissuto per tanto anno hanno per tanti anni hanno sciupato tutto cosa possono recuperare allora la risposta a questa cosa è complessa perché sono ovviamente alcune cose che non possono essere recuperate cioè loro non vivranno mai come dire un matrimonio come lo vivono due angioletti di cui stavo parlando prima che arrivasse la la telefonata questo non c'è indubbiamente però c'è comunque una possibilità di riscatto della propria esistenza e anche come dire di recupero di una benedizione di dio anche su una cosa nata male anzi molto male come nel loro caso quando ci siano degli atti di pentimento perché il pentimento unito alla confessione unito alla penitenza e unito anche dove possibile a dei gesti riparatori a carattere personale o anche a carattere interpersonale può come dire indurre nostro signore a concedere delle grazie che per quanto riguarda come dire ciò che si meriterebbero le persone avendo le sciupate non dovrebbe dagliere più faccio un esempio supponiamo che questa famiglia intenda regolarizzare una propria situazione sposandosi in chiesa io per esempio da queste parti insomma ma so che lo fanno in molti si chiedono a coppia dei conviventi e già si accettano questo è qualcosa che prima del matrimonio religioso vadano a vivere ognuno per quanto su tornino a casa non soltanto dormano in camere separate quella è una cosa che si deve fare per esempio se hanno un bambino di quattro mesi diventa poi non soltanto complicato ma anche dannoso per il bambino che interrompere per un certo periodo la convivenza ma se è possibile farlo si accettano di fare una cosa di questo genere che è comunque un gesto penitenziale qualcosa si fa sicuramente dovranno fare prima del matrimonio un tempo di astinenza reciproca a scopo penitenziale quindi tutta una serie di gesti riparatori la misericordia di dio è un fatto reale no quindi certo la misericordia di dio questo vale per tutti i peccati ci riabilita e ci consente anche il recupero di alcune grazie che abbiamo perso per la nostra indegnità però non toglie le conseguenze di quello che abbiamo fatto tu hai perso la verginità la verginità non ti torna tu hai fatto un figlio prima del matrimonio hai fatto un figlio prima del matrimonio chiuso hai scandalizzato delle persone negli anni addietro andando a convivere prima di sposarti hai scandalizzato delle persone negli anni addietro andando a vivere a convivere prima di sposarti per quanto riguarda quello che stava dicendo la definizione che ho dato prima che è quella di numerari non è esattamente il numerario è una figura particolare di laico tra virgolette consacrato ma loro non amano che si chiami così dell'opus dei quindi è una persona che non è che momentaneamente in attesa di discernimento vocazionale vive come giustamente sta vivendo Alfonso perché fino a quando uno non ha chiaro la vocazione deve comunque vivere casto e deve vivere la castità nella forma della continenza loro gli danno un indirizzo definito e per quanto riguarda la situazione particolare di Alfonso faccia bene il discernimento magari con l'aiuto di momenti di ritiro o di una buona guida spirituale in modo tale che non preoccupandosi 33 anni non fa assolutamente nulla purtroppo di questi tempi è abbastanza frequente che si arrivi a scegliere la direzione dello stato di vita in età abbastanza avanzata paghiamo io penso il tributo al nostro al nostro tempo e con fiducia sappia che il signore farà in modo di fargli comprendere quello che vuole da lui ecco stavo riprendendo quindi parlando del tipo di castità da vivere durante il fidanzamento quindi atti a sfondo venere o no allora come vi ho promesso e vi cito alcuni esempi e a conclusione diciamo di questo tema me ne cito 34 e cominciamo dal cosiddetto bacio profondo bacio profondo che vi posso dire subito quando io ero giovane non avevo la più pari idea che fosse un peccato d'accordo pensavo che fosse una cosa lecita e quindi come dire si sentiamo sentiamo allora sentite padre io penso che non so chi mi deve ricordare sono vetro da un anno e mezzo che è morto mio mario e penso che non abito più in casa mia però la residente ce l'ho là ma io non abito più e sto da mia figlia e ho fatto la cessione della televisione che non la voglio pagare perché non la uso e allora uno di questi qua della rai la risposta dice no lei deve pagare per forza la televisione rinventa a mio marito mio marito è morto signora scusi un attimo questo cosa c'entra con quello di cui stiamo parlando scusi un attimo qui stiamo parlando di di castità e di rapporti prematrimoniali non di televisioni non qui non qui signora questo non mi sembra una cosa non so cosa dicono le suore non mi sembra una cosa fatta bene insomma di questa è una consulenza legale insomma non mi sembra il caso di signora ma io non so che dirle adesso via via cioè in diretta radio adesso qui no quindi non non lo so che cosa dicono le suore mi sembra il caso di che dirle che si rivolga un buon avvocato insomma non non in questa sede qui stiamo parlando le ripeto di di purezza e di castità in una trasmissione di catechesi giovanile insomma quindi non non saprei che cosa dirle riguardo questo questo che lei sta dicendo no pronto pronto va bene riprendiamo scusate questa ulteriore interruzione vi stavo dicendo di voler concludere con alcune notazioni ed esempi uno è quello di padre pio ho già citato altre volte padre pio e c'è un episodio storico e che continua un insegnamento molto chiaro e severo da parte dei santi sul tema del bacio una settimana prima del matrimonio una coppia di suoi figli spirituali che lui avrebbe dovuto sposare una settimana dopo diciamo cedettero la tentazione di darsi un bacio e la donna chiaramente fatto questa cosa sapendo a differenza di me che come ho accennato quando ero giovane non mi rende assolutamente conto che questo era un peccato è andato a confessarsi da padre pio e padre pio le ha negato l'assoluzione dicendogli non potevi aspettare un'altra settimana vatti a confessare da un altro io immagino che qualcuno forse sia sobbalzato sulla sedia mentre sta ascoltando queste cose come sobbalzai io quando la senti per la prima volta no però cosa fa comprendere questo esattamente ciò di cui stavamo parlando poc'anzi cioè che l'aver compiuto questa cosa ha fatto perdere a quella coppia una caterva di grazie che il signore avrebbe riservato loro se fino al giorno del matrimonio avessero conservato la casità perfetta quindi padre pio si è arrabbiato non perché non potesse assolvere chiaramente questo peccato che comunque un peccato grave però pentimento e c'è l'assoluzione ma si è arrabbiato perché facendo questa caduta questa coppia aveva perso una serie di grazie da parte di nostro signore riservati a coloro che arrivano al matrimonio in maniera perfettamente integra quando io senti questa storia ancora non sapevo a livello come dire morale e dogmatico che questo fosse stato un pronunciamento di magisterio ecclesiastico e poi sono venuto a saperlo nel danzinger al numero 2060 lo trovate anche online il danzinger per i non addetti ai lavori il danzinger è un volume diciamo così che raccoglie tutte le pronunce magisteriali fatte da papi o da concili sui temi in cui è competente il magistero della chiesa ovvero temi di fede quindi verità di fede o temi morali come quello di cui sto parlando quindi verità di tipo morale allora papa alessandro settimo il caso ve l'ho accennato i tempi teologi razzisti insegnavano che un bacio dato senza il pericolo di ulteriori conseguenze è virgolettato quindi cercate di capire quindi un bacio che poi non sia seguito da una serie di atti conseguenziali che poi possano comportare quello che oggi è comunemente chiamato il petting quindi un bacio semplice un bacio che uno dà anche in maniera profonda spinta e poi si ferma loro pensavano che fosse soltanto un peccato veniale ma il papa ha respinto tale dottrina condannando esplicitamente questa proposizione che ve la leggo la trovate nel danzinger probabile è l'opinione che dice che soltanto veniale è un bacio per piacere carnale sensibile che viene da esso fin quando non c'è pericolo di ulteriore consenso di polluzione questa sentenza è condannata quindi è condannata l'opinione che ritiene questo un peccato soltanto veniale quindi vuol dire che non è un peccato soltanto veniale ma è un peccato grave come vi dicevo spero in qualche puntata precedente qui si applica il principio che in re venerea non datur parvitas materie negli argomenti di sesto comandamento non c'è mai materia lieve la materia è sempre grave anche se chiaramente dentro la materia grave che è comunque sempre tale ci sono chiaramente delle gradazioni è molto più grave per esempio un adulterio ovviamente questo lo capiamo che è un bacio dato da due fidanzati in un momento di debolezza durante il fidanzamento questo è ovvio ora sabato scorso qui da queste parti è stata la festa di Santa Maria Corretti la piccola grande Maria Corretti la cui esperienza fa comprendere la gravità di due cose dei rapporti prematrimoniali e anche dei peccati delle mode in vere conde Marietta fu uccisa con 14 colpi di punteruoli di punteruoli da Alessandro Serenelli quando ancora non aveva compiuto 12 anni e fu colpita in questo modo barbaro perché lei resistette ad un tentativo di violenza carnale ora Alessandro Serenelli stesso ha testimoniato con sue parole che mentre lui cieco di ira e di odio per essere stato nuovamente rifiutato non era la prima volta che faceva delle avance colpiva in questo modo barbaro questa ragazza lei non si è mai non ha mai usato le braccia per parare i colpi di punteruolo ma ha sempre usato le mani per tenere abbassate le sue vesti mentre diceva al suo aggressore cosa fai Alessandro questo non si fa è peccato e vai all'inferno e pensate alla mia sorpresa quando tanti anni fa leggendo il settimanale di padre Pio venne a sapere la soluzione di una storia che anche questo ho raccontato altre volte durante le apparizioni di Fatima riconosciute queste dalla chiesa e quindi che lì c'è stata la Madonna non c'è dubbio durante la prima apparizione di Fatima la piccola Lucia Dos Santos una delle tre pastorelle che era quella che parlava con la Madonna durante le apparizioni fece delle domande alla Madonna chiedendo che fine avessero fatte alcune sue amiche che erano morte due in particolare della prima Maria das Neves la Madonna disse che era in paradiso di un'altra amica che si chiamava Amelia la Madonna disse che questa doveva stare in purgatorio fino al giudizio universale io mi ricordo quando conobbi l'apparizione di Fatima tanti anni fa dico fino al giudizio universale e cosa avrà fatto questa se era un'amica di Lucia Dos Santos quanti anni poteva avere 14 15 purgatorio fino al giudizio universale a questa età che cosa mai avrà fatto allora sapete cosa aveva fatto questa era una seconda Santa Maria Coretti nel senso che ha vissuto la stessa esperienza di Santa Maria Coretti quindi un giovane che violeva possederla lei non voleva essere posseduta quindi non era consenziente ma non ha opposto resistenza come Santa Maria Coretti per timore di essere uccisa quindi diciamo così ha come dire si è resa alla violenza pur contro la propria volontà per timore di perdere la vita questo è il peccato per cui è rimasto impurgatorio fino al giudizio universale e questo non è che si capisce molto difficilmente perché se vi ricordate quando abbiamo parlato del peccato per commettere un peccato mortale il peccato mortale ci porta all'inferno attenzione ci vogliono tre condizioni la materia grave e ovviamente il sesto comandamento è sempre materia grave ci vuole anche la piena avvertenza cioè rendersi conto di quello che si sta facendo e questa ragazza si rendeva conto di quello che stava facendo ma ci vuole anche il deliberato consenso quindi materia grave mi rendo conto e scelgo liberamente di farlo il deliberato consenso capite subito che in questa fattispecie manca perché la ragazza ha ceduto a una violenza che comunque rimane violenza però gli altri due rimangono quindi non è andata all'inferno chiaramente perché non ha consentito non è che dinanzi a questa dicevo questo mi ammazza va bene stiamoci così ci divertiamo un po' e ci risparmiamo la vita non ha fatto questo quindi ha subito controvoglia questa violenza però in una circostanza del genere per questo dobbiamo pregare nel Padre Nostro non ci indurre in tentazione quindi non permettere che cadiamo o che siamo provati o che siamo tentati perché dopo quando arriva una prova così grande l'unica cosa da fare era quella di difendersi fino alla morte ragazzi come ha fatto Santa Maria Corretti per andare diretto in paradiso come un martire quindi pensate a un'espiazione quanto lunga capite motivata quindi non dal fatto che questo era un peccato mortale ma che fa comprendere quanto è grave questa materia agli occhi di Dio quindi attenzione voi immaginate riflettere su questa cosa e pensate semplicemente allo stile e ai modi di fare che hanno quasi tutti quasi tutti forse è troppo ma diciamo molti giovani e giovanissimi ai tempi d'oggi ragazzi quindi ho citato questi esempi all'ultimo posto e concludo la trasmissione di oggi per farvi comprendere qui non si tratta di fare terrorismo religioso o di spaventare le persone sono le ultime cose che vi ho detto io ho cercato presentandovi questo tema di farvi comprendere la bellezza e l'importanza di certe scelte non tanto come dire no a qualcosa perché dopo è peccato e perché dopo vado all'inferno anche se queste dimensioni sono presenti ma cercando di comprendere la motivazione e quindi la bellezza e la sensatezza di quello che Dio ci chiede ho concluso facendo questi esempi che questi esempi mostrano diciamo l'aspetto morale della dimensione e l'aspetto morale della dimensione è grave e preoccupante se come sono vere sono vere tutte le cose che vi ho detto il comportamento di padre Pio dinanzi a un peccato di bacio fatto una settimana prima del matrimonio ciò che ha scritto Papa Alessandro VII sulla gravità durante il fidanzamento perfino di un bacio la testimonianza eroica di Santa Maria Goretti per ciò che concerne il peccato di fornicazione cioè del rapporto prematrimoniale e le conseguenze espiatorie gravi che la mancanza di eroismi di questa amica di Don Lucia ha comportato accettando di subire una violenza su una materia però così tanto grave ecco quindi ragazzi mi raccomando siamo sempre decisi e forti spero che queste trasmissioni facciano come dire riflettere qualcuno e innamorarci della bellezza della castità per vivere santamente il matrimonio scusate il fidanzamento e chi c'ha la vocazione porre in essere dei matrimoni santi e benedetti da Dio perché di essi sia la chiesa che l'umana società oggi più che mai a quanto mai bisogna io vi benedico tutti vi saluto dandovi appuntamento se lo riterrete opportuno a martedì prossimo a tutti ave Maria grazie a tutti Grazie a tutti.